Allora, siamo al Borderfield State Park, che è il punto più a sud-ovest degli Stati Uniti, e siamo davanti a confine tra Stati Uniti e Messina. C'è un muro dietro di noi, con delle sparre. Diciamo, riusciamo a vedere Messico, tutti i messicani che sono in spiaggia, la città di Tijuana, un sacco di case, e invece dalla parte stranitense, c'è un parco naturale delle stuaghe del Tijuana. E noi abbiamo raggiunto la parte vicina al muro con il confine. Dietro di noi, nei dieci metri che siamo verso il confine, c'è un altro muro con la parte stranitense, in cui per entrare, secondo me, che è un passaporto. Oggi è aperto questo spazio qua, quindi dopo proveremo ad entrare. E niente, è molto strano vedere tutto la parte messicana, tutti i passi bambini che giocano nella spiazza, bambini che giocano in spiazza, giunti in spiazza, prendersi al vicino a loro per guardare di qua. E è affascinante, infatti, è vero che nella parte stranitense, ci sia una spiaggia sconfinata con questo parco naturale. Sembra quasi che la parte stranitense sia di là, dove c'è vita. Sì. E invece di qua al Messico. E invece no. Di qua sul Messico. E noi siamo di qua. Ciao.